Non abbiamo buttato via i punti perché volevamo vincere tutti i costi, purtroppo non ci siamo riusciti, adesso si va avanti, ci mancano queste partite che sono rimaste, non dobbiamo mollare. Cos'è mancato a livello di cattiveria? Sì, è mancato la ritiriera e è mancato anche il ritmo perché non abbiamo mai cambiato marge in questa partita, abbiamo sempre giocato con un ritmo e bisognava giocare più veloce la palla e muoversi più veloce. Cosa hai pensato all'ultimo quando Paloschi ti si è presentato davanti? Hai pensato di rivivere la situazione contro il torino? Non c'è avuto tempo di pensare. Quando la palla si è stampata sull'attraverso, sul periodo impirabile, cosa hai pensato? Non neanche se l'ho pensato, ho fatto un gran tiro, poteva essere di vuoto, si andava dentro e era vuoto. L'ultimo quattro finali per raggiungere questo treno Europa League e l'Inter ce la messerà tutta, qual è la sensazione di sempre andare su questo obiettivo? Non c'abbiamo belle partite da fare, non c'è più, giochiamo con traversali dove vorranno anche loro vincere, sono belle partite. L'ultima, l'ultima al novantesimo, dopo tanto sostegno sono arrivati anche i fissi da parte dei tifosi, cosa ti sento di vivere loro? No, i tifosi hanno gritto di sua opinione, ma secondo me l'abbiamo messa tutta, poi l'ultimo non è arrivato, a ogni tifoso c'è il gritto di fare quello che ritiene giusto. Samir, contro squadre che attaccano, può essere più facile? No, non è più facile, sono diverse partite, sono più lanciati più loro, più noi e sono diversi, sono più spazi. Diverse partite, ciao. Grazie. Grazie.